Dall'associazione Teramo Vivi Città, un intervento a tutela del benessere animale e riduzione della spesa pubblica, come niente tares per chi adotta un cane. Sì, questa è una proposta che io ho avuto modo di elaborare grazie anche a un comune della Sicilia che ha messo in atto questa iniziativa. Io ho in contatto con loro un attimino visto com'è il modo di applicare questa normativa, questa iniziativa, come la vogliamo chiamare. Funziona, funziona bene. Quindi ho pensato di elaborarla per la città di Teramo aggiungendo delle cose che io già in passato ho proposto, come per esempio abbattere le spese del canile facendolo gestire ai detenuti perché potrebbe essere un'ottima cosa anche per dare una mano a queste persone che vivono una realtà difficile. Quindi noi in questo modo, non facendo pagare la tares o comunque riducendola in percentuale, e questo ovviamente poi sarà l'amministrazione a valutare la percentuale, otterremo un beneficio notevole per Teramo perché i costi del canile sarebbero praticamente quasi azzerati. In più diamo la possibilità di dare una casa ai cani, che è la cosa più importante perché la vita di un cane non è né come randaggio né dentro un canile. E in più ho proposto di portare il problema randagismo e fare un'educazione ecoambientale nelle scuole in maniera che i giovani di adesso, che saranno gli uomini di domani, sanno già cosa li aspetta e come comportarsi.